Samus! Samus! Oh! Sceglie il matchup piuttosto che l'esperienza! Mario mi è rimanato la Samusa con prima il link del match mi ha detto sarà la risposta a due Due, Gercos Scusa Va bene, ho tolto lo schermo Ho sentito il rumore ma vedete Chissà cosa era Vediamo se l'ha risposta a due Sì ma Sì ma Risponderà dopo Le ha tolto 3300 Per cento in questo Però ecco intanto Eccoci Eccoci E' un gran matchup dal fatto di Samus Ecco Siamo andati ingranando Adattamento ragazzi Adattabilità E' un gran matchup Ma eccoci Non ci trappi Anche mi ha fatto un cazzo Caccia di piccare da distanza Allora vado a casare alla distanza E buttare l'unica di possibile D'arattamento O non ci ha fatto un cazzo Non rischiare, non scrivere mentre guidi Ok Che miseria Attenzione Qua si torna il fan Stava per chiuderla tra l'altro Oh Leggialino Non metto che era intenzionale Era una misericordia Il legalino Già il fatto che c'è un antrofei C'è un problema di fondo Il come back E vediamo chi come e chi back Ma lei sei che è in plan di Dario Qua non vuole far avvicinare gli usi Guarda sono io even Che cazzo di come back Vuole giocare dalla media a distanza Vuole evitare Infatti un potenziale dopo E sembra far funzionarlo E vuole controllare il toller di Dario E con tether Mi sa Mi piace a cazzo un saldo Dicassiamo ragazzo Questa è una gran bella Anche di domenica Vedremo come reagire a Luigi A questa misura E dire assolutamente Continua a confettare Oh non con i shell Che cazzo attacca Stacca Stacca E' un po' troppo spaventato Corso Ho entrato Oh Questo non era spaventato Ci ha zittiti Ha detto Oh Bellissimo Troia La continuata lui Madonna La back to la madonna Si cazzo La bel game Andrea Smith ha un questi actualy per favore Dai non ti prego Carica un ciclo Sono ironico Sono ironico Sono ironico Sono ironico Lo sto scherzando Carca trappola Carca trappola Era ironico No non sono ironico Andrea Ti odio Non si può dire Non sa mai che Capitano Che è Che mi dici Guarda ti voglio strappare le braccia No E mi dici A me era un ipotetico No Lo sa Lo sa Lo sa Lo sa Patrice Quando torno ci penso Ma per ora fa L'ora Prendo sopravento Torniamo il commento Scusate Attenzione Lui ci sta Lontando alla miseria Vabbè Anche prima Anche prima Poi abbiamo visto il comeback E ora Ce la dire che sta adattando Ma Palline Perché potevate entrare la spike Palline Anche qua Un altro stock No Oh Piuttosto che tentassi la doppia La read Eh ma Ma che taglia un po' di arco Trippa Non c'è trippa per gatti Qua Guardi 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 Vabbè intanto, intanto, gesto di vantaggio, vediamo se c'era un altro come back L'ha caricato? Non l'ha caricato? Nooo, troppo greedy, troppo greedy il ragazzo Molto, troppo Che miseria, tutti voglio essere i minimi Miseriaccia Miseriaccia Eh già Che far andare? Intenterà ancora questo pick Esotico O ritornerà sui passi Il pick miserioso E l'ho letto, l'ho letto E si torna, sullo spalaccino nero Si beccato, vorrei verlo su Deveve, però so che si beccherà le combo della madonna A non solo Però secondo me il massimo potenziale è con Deveveve Beh, un tempo dovevi perdere il game, quindi devi un po'... Non ci stai male. In fine la posa un blocco è. Si, infatti è come dice i muletti, ha messo in posa dopo che ha finito la nobbo. Perché ha attività, ha messo in posa, ha attività. Non ci stai male. Non ci stai male. Guarda, dai, no. Come fare, si è sbagliato. Però! Però! Quanti tempo hai dato una traccia di stare? Io non so neanche una traccia. Che quando l'uomo arriva nel fondo del posto dell'hacking c'è la misilia e c'è il comeback! Però! 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 C'è stato l'hacking! Nooo! Ma almeno ho caricato. Non avrebbe kill-up. No, no, kill-up. Non è così. Lorenzo è stato arrestato da Lucian. Sa pure il problema. Ciao! Non c'è più miseria, attenzione! Neggi! Neggi! In tema, sempre! Ma tu ci sei una... Una chiusura. Una chiusura. Che era quella facciale. Non kill-up. Non kill-up però. Eh, faceva più danni ma non kill-up. Le Smash kill-up. Come Elzo? Può fare Elzo? Eh, c'ha un Elzo. Marta ha l'Elzo. Oh, bello. Ander, prova a chiedere a Marta di tutta la civessa. Io non vengo male. V-mezzo. V-mezzo, ti dico. Iscriviti a meme. Per altri meme. V-mezzo, per il mezzo non scopo il smartphone. Sì, no, ma... Che vuole prendere! Wow! Dario medita. Ripiccia Marta. Mannazionne! E cambia la skin! La skin! Un pochino più esotica. Si toglie il febbolo! Sì, l'abbiamo capito. L'abbiamo capito! Come Ash Ketchum sento del cappello. Eh. Vedremo. Vedremo se Marta è la risposta. ora che ha capito un po' più di controllo forse forse è la spada attenzione mi sono a pensare che sia una gran stronzata stimare l'ultimo match sono i 20 sono già le 7 e 20 parte di me vorrebbe che e non lo dico per me ma lo dico per il concario non farlo si hai fatto una stronzata 20 torno da lì dalla bottom tier ma non lo è mai stato dal mid tier oh 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 senti a te schifo una morte poteva pure anche tu oh quanti pagliai non lo dico non lo dico non lo dico non lo dico ma ancora si è che è buono zippo oh dio Oglia, chi l'ha 30, Marco? Dai! Un altro! Ma se diciamo che il fatto lì era... si rischia il misfire e il misfire lì davvero l'ha ucciso non avrebbe mai peccato la lì il misfire non è vero però te lo aspetti quindi è pronto a uno, eh? Eh... va bene, sarà avuto il culo Vero, dai, ma non è verissimo Vero Lo che fa un vittore è anche la fortuna la fortuna del vittore Vero, 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 vero Continua a provarci, prima o poi sarà affortunato diceva qui sull'arte della guerra è la miseria Uuuuh, il flash double ha la pazienza la pazienza al campione vedremo che li pagherà mai perdersi tanto, mai perdersi tanto non solo game five, daga, minchia l'opzione è peggiore possibile bravo Dario bravo Dario bravo Dario quattrofissio oh mio Dario potrebbe essere morto eeeh purtroppo la cura non c'è miseria che tenga la cura la cura la cura la cura la cura la cura